Salve a tutti e benvenuti in una puntata di questa serie su Farcali 5 chiamata Lega Montana Mi vedrete un po' così, vostro analizzato, perché? Perché mi ritrovo qui, all'hotel dove devo trovare Bricks Però nice hotel, tutto ci sto trovando, tranne i su Bricks C'è l'hotel e l'ho raggiunto, allora lista dei fallimenti Mi cacchino per essere una che voleva, vabbè qua ci sono cose di lore Che vabbè, robe varie di lore Qua c'è un po' il camionetto Ma che devi c'è? Cosa cacchio stai facendo? Ma questa psicopatica, vabbè Io c'ho quella che è con me che è più psicopatica di Di quelli con cui mi ritrovo Magari è alla casetta Io mi guardo un giro, eh Aspetta, porta giù Magari qui? No, io non Non trovo nulla Niente Ebbè, rientriamo all'hotel a sto punto Perché Allora, fammi capire un attimo che lato siamo all'hotel Cos'è? Cos'è questo? Qua abbiamo trovato Oh beh, per libertà qua c'è la missione Proviamo a vedere se è qui Mi sembra difficile Però Questa è morta Questa è morta Continua a essere sempre all'area ricerca Quindi questo mi fa pensare che ormai c'è la possibilità che è niente Perché tanto abbiamo capito che siamo Vabbè Magari qui Provo a entrare qui Eh no, e stiamo andando all'hotel Allora Qua c'è Private Private che non si può neanche entrare Qua C'è l'armeria Dove c'è munizioni Robbe varie Ormai io ci giro abbastanza liberamente Perché credo di aver fatto fuori tutti Ma veramente tutti Qua dentro L'unico problema è trovare Brix E trovare sto Brix Anche perché Mi sembra di aver anche girato tipo Sai tutte quelle zone di nitrofe Tutte quelle Mi sembra di aver girato tutto C'è Non c'è Non ci sia qualcosa Qua c'è la cucina Con le molotope in cucina Che non si capisce perché Qua non si entra Qua si esce C'è Deve essere qui Da qualche parte qui C'è Devo pensare che deve essere qui Da qualche parte Ora so di aver sentito qualcosa Mi sposto Circo una visuale migliore Interagisci Ehi sono Phil Arrivando un'altra decina di record So che sono tante Ma abbiamo fatto il jackpot Con questi maledetti white tail E non voglio farli marcire alla segheria Spostiamo gente ogni due ore E adesso abbiamo degli aspiranti Anger Games da gestire Quindi fate spazio Dovrebbero arrivare da un momento all'altro Ok Qua hai sei fallimenti Cambio posizione Da qui non posso fare niente Qua Via Beh ogni tanto Arrippano comunque C'è un respawn Ogni tanto Però Per questo io anche voglio Perché se Mario Che respawn È di qualcuno E Questo è un altro morto Però già sta a stanze diversa Porca miseria Andiamo su Forse dobbiamo controllare le stanze Fammi vedere Qua 301 Non riesco Dovrebbero Sto Bricks Mentre Comunque Qualcuno Arriva E se ne va C'era gente Tipo di passaggi E gente Di passaggio Lontanissima Sì E gente Lontanissima Ma Faccio un ponte Sembra che Però sta arrivando Aspetta eh Aspetta che qua È meglio Se lo sistemo Ok Ci siamo guadagnati Un altro po' Di tranquillità Abbiamo trovato Bricks I perforanti Ok Bene Ok Ok Ho capito Ho capito Senti Fuori ci sono mortali E mitragliatrici Un po' di creatività E un sacco di giocattoli Eh vabbè Eh vabbè Però Eh sì Eh pappe Ok Porca 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 E la Vai E via Non so Dove Aspetta Ora Bomba È un Certo Giravi un po' Intorno A cazzo di cane Però Liberiamo l'area Dove sei Dove sei Dov'è Dov'è Eh ho capito Spezza Sì Vabbè Eh E come scendo Va bene Aspetta Raga Minchissi Aspetta Che Oh Dal lago E dov'è Sto lago Ah il lago Il lago È lì L'unico Arrivano Gli ricatteri Pure Ok Porca Puttana Bella La peppa E la peppina Vai Fango Poi Poi Vai Dov'è 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 Si va bene La peppa Arrivano Ciao Saccheggia Oh Saccheggia Un altro ce n'è Ole E dove sono Eh babbona tu Ok E dai Dove sono Porca miseria Ho visto che sono quelli della setta Boom E questo è la peppa Dov'è Mi chiamo In me stanno fin Le munizioni Quindi Dov'è A volte Mi chiedo Quanta guerra Potrò reggere ancora Prima di crollare Non dovremmo vivere così Tutta la nostra vita Eh no Però Al momento Mi sposto Cerco una visuale Milione Ok Dov'è Io voglio capire Dove sono finito Dov'è Dov'è Forza lì è Va Poi Eh la Peppa Facciamo una cosa Vai Poi Io Io Usavo le mie Di armi Di armi Di armi Porca Iiii Cosa Che Ui Aspetta Delirio Oh Ottimo Che cosa Aspetta Devo rianimare Quella Porca Misera Oh Eh Problema Rianimarti Amica Porca Porca Ok Posa Chitta Porca Ma Ma Te la lasciavo lì Dico io Te la lasciavo lì Non me la sarei cavata meglio Vabbè Ah E va bene Allora Libera l'aria Il secondo libera Si va bene Dove Da dove vengono Sempre Cusse musiche Allora Posa Qui Si va bene Dice Ok 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 Aspetta che, ancora ci penso io, ma si aspetto qui, tipo, ma qui secca quello quello secca Aspetta che qua ce n'è uno, porca, mamma mia, e ho notato, merda, oh, tu sei ciechi, ecco lo sparo all'helicottero, aspetta, porca, mamma ho capito, eh, Nick Ryan non è disponibile, quella è andata giù, aspetta che, porca, Scusa, eh, mi sa, allora, Nick Ryan non è disponibile, è il roster, devo fare una cosa, Erk, pericolamente stupido, andiamo con questo, dai, assegno, tu, questo, Mamma, Porca, Ok, Porca, Ok, Vai Ok Ok Oh E' questo andato Il più grande rottore di scatola era quello Bravissimo Porca Non mi sono accorto E come posso aiutarti Sotterra pure io Brutte cose E che dovrei andare giù e usare quelle robe lì L'arma automatica Quelle robe lì Invece usare le mie di armi Solo che Ecco Vedo i furgoni della setta Sì va bene I furgoni della setta dove sono Dove sono E porca Cambio posizione Eccolo Eccolo Porca Porca Portana Non so che te me ne dico Ma porca E no Oh merda Ok Ah bravo Ce ne sono altri Oh Porca Qua 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 Aspetta Qua Qua c'è ancora gente Dove sono Dove sono Dove sono E stai sanguinando E porca Sampada a te stessa Dove sei Ah Eccolo 5 mili Quanti O tre Ok Dove sono I mili Annoracce E' finita Ancora Ok Ok Voto Vai E' meglio Prendilo Allora Bravo Bravo Sì Un bel centro pieno Va giù No Dov'è Che c'è Lì Boh Atto È andato giù È andato giù Oh Ce l'abbiamo fatta Abbiamo vinto la battaglia Non la guerra È un bel lavoro Per me sei un eroe La vedo bene anche per Briggs Stanno arrivando i White Tail A recuperarlo Ok Ok Oh Jacob Non userò più il Grandview Per sputtanare il cervello alla gente Vorrei vedere la sua faccia Quando scoprirà che ha perso La sua piccola tortura Eh Già Oh Bene Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Uh Ora Gli abbiamo levato Sto Grandview Di cose Oh Bene Io tornerei Ebbene Dove posso tornare Covo dei lupi Non Non me lo segna Neanche più Nella mappa Quello che era Diciamo Covo dei lupi Non me lo segna più Nella mappa Allora Io a sto punto A sto punto Dove andrei Boh Vedremo Penso sia una cosa Che c'era Che arriva dopo Con calma Dopo Questa missione Che è stato Un parto Diciamo Un mezzo Una cosa folle Direi che Insomma Possiamo Chiudere qui Questa puntata Per Prendereci un attimo Di calma Io posso Prendere un attimo Con calma Posso Riprendermi un attimo E Diciamo Riassestare un po' Dopotutto Questo delirio Delirio Che è Que Che Perché c'è gente Che cammina qui Che cosa Io Vedo Gente Che cammina Liberamente Comunque Vabbè E Boh Basta Basta Chiudo qui Perché altrimenti Non chiudo più Questa puntata Quindi Detto questo Abbiamo Fatto questa missione Vedremo le prossime cose Faremo Non lo so Comunque Alla fine Beh In qualche modo È andata Quindi Detto questo Voto semplicemente Saluto tutti quanti voi Alla prossima